Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Full automatic steering, ultrasonic sensor, for self leveling and for auto steering. All right, let's go. Le macchines hanno all'interno di 10 metri, ma possono fare un turno di 354 metri, se non sono problemi, grazie per le stiori trailer wheels. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.